Amici del grande calcio, bentornati su senza giri di parole, io sono Biazaku E io sono un Tatsuno triste Meno di meno triste Eh vabbè, siamo per salutare Perché forse, perché non è ancora ufficiale però A quanto pare sembrerebbe che tutti gli indizi portano a questo finale Pietro Zienischi sta per diventare un nuovo giocatore dell'Alali Quindi quella che vince i campionati, se non sbaglio, l'Alali è quella che ha vinto anche l'anno scorso Quella che si è presa con i balini Non lo so, perché ci sta una squadra che si chiama Alilal, che è molto simile Non lo so se è quella Ah è vero, sì sì, è vero, hai ragione, è quella L'Alali è quella che ha preso Mares, è vero Alali e Alilal si confondono Comunque Mi sono tutto quanto uguale Pietro Zienischi a quanto pare sta per essere l'ennissimo giocatore ad accettare l'Arabia Saudita a 29 anni Rapprendere, se non si parla, 12 milioni Quindi un bel contrattino O forse anche di più, mi ricordo Non è ancora chiara la situazione E a quanto pare incasserà il Napoli tra i 25 e i 30 milioni C'è chi dice 25, c'è chi dice 30, addirittura c'è chi dice 35 Però diciamo che il range è questo A me fa morire il fatto che loro, gli arabi dico, abbiano iniziato dando milioni alle squadre e milioni ai giocatori Senza sapere né leggere né scrivere Però adesso si stanno facendo venire il pulpito Si stanno un attimo fermando con i trasferimenti E invece Probabilmente perché si stanno facendo pure un attimino furbi Perché stanno capendo che se i tuoi giocatori dai 30 milioni all'anno Non devi convincere le società Perché i giocatori si fanno afferra per pazzi Pur di andarci Quindi non devono più dare 50 milioni come è successo a Ruben Neves O 50 come gli hanno dati a Mares Puoi anche darne 20 Però la cosa mi sta un po' sul cazzo Mi sta un po' sul cazzo Ma è vero che Zininski si avvia verso la scadenza Però perdere un giocatore così per 20 milioni Ma Però è anche vero che noi è da anni Che presupponiamo che comunque al posto di Zininski Qualcun altro lo potremmo prendere Ietti avevamo il sogno bagnato sopra Sly Ovviamente sarebbe stato complicatissimo Però per dire Nella nostra mente questa cosa c'è da tempo Il che non vuol dire che poi ovviamente non sarà una perdita Zininski Zininski ha tutti effetti una perdita Perché è un caposaldo del centrocampo del Napoli da anni Con i suoi grandissimi bassi Ci ha offerto anche tanti altri E comunque una costanza di rendimento Perché comunque credo che Zininski non sia mai sceso sotto i 5 assist 5 gol all'anno Quindi i giocatori così non se ne trovano sempre Però ripeto Non è un'accessione sanguinosa Come potrebbe potenzialmente essere quella di Kim Perché i centrocampisti non mancano Perché i giocatori così il Napoli li trova E poi se posso permettermi Probabilmente in casa uno ne abbiamo pure Perché io è da anni che sostengo Che probabilmente Uno dei motivi per cui Elmas non esplode E che ha Zininski davanti Però vediamo Sì, nell'ultima stagione A livello statistico Forse è stata la migliore di Zininski Comunque 7 gol e 11 assist Non mi sembra che abbia fatto meglio Nuovo controllo Ma non Forse è una volta arrivato in doppia cifra di gol Ma Comunque 11 assist Non c'era mai arrivato Questo è sicuro E come hai detto tu Bene Ci sono stati tanti alti Ah no La migliore è stata 20-21 10-13 Quindi non è stata la sua migliore Come hai detto bene tu Ci sono stati tanti alti e tanti bassi L'abbiamo aspettato Ce la siamo goduto alla fine E Allora Zielo è arrivato con quella nomea Di essere un grande talento Allenatori che l'hanno allenato E hanno detto di ogni Cioè abbiamo fatto complimenti incredibili Tutti a complimentarsi Con lui Perché Oggettivamente Stiamo parlando di un giocatore Che tecnicamente È sempre stato Di un livello altissimo Però io qui Cioè ogni volta che vedo Zininski Mi viene in mente Una frase Che disse Cristiano Ronaldo Al gran galà del pallone d'oro Il talento senza La mentalità giusta Non è niente Zininski poteva veramente Diventare Tre centriambisti Più forti Degli ultimi Trent'anni Però a livello Mentale Non ce l'aveva Molti si dimenticano Di questa particolarità Dei calciatori Tendono tutti quanti A premiare Soprattutto le qualità Tecniche Cassano Ma non a premiare Le caratteristiche mentali Per esempio Noi a Napoli Abbiamo avuto un giocatore Che mentalmente Era ad un livello altissimo Che si chiamava Jose Maria Cagliecon E grazie a quello È arrivato a dei livelli Allucinanti Cosa che invece Zininski Aveva praticamente L'opposto E piano piano Ha fatto vedere Il suo talento Negli anni Perché Zininski Ce l'abbiamo veramente Da tanto tempo Ma la prova Che non è riuscita Ad esprimersi Al 100% Per colpa Dei suoi limiti Di carisma Mentali Di Di saper reggere La pressione Eccetera Eccetera L'ha dimostrata Proprio il fatto Che tutti Tutti Anche tu Che stai guardando Questo video Senti Di non aver visto Il massimo Che poteva raggiungere Zininski E questo Quando un giocatore Ti lascia Questa sensazione È proprio la prova Più lampante Che ti dimostra Che purtroppo Non è Non è stato Il fenomeno Che tutti quanti Credevamo Che sarebbe diventato Purtroppo per me Per diventare Un fenomeno A tutti gli effetti Devi dimostrare Sia di essere Tecnicamente E a livello Calcistico Intelligente Di un livello Incredibile Ma anche Dimostrare Di avere Le capacità Mentali E di carisma E di personalità Se hai soltanto Una delle due cose Per me Non sei un fenomeno Sì Peraltro Zininski Ha avuto Anche quest'anno Dei momenti Di amnesia Non li dimentico Con tutto il bene Che gli voglio Non mi dimentico Perché lui È mancato Forse nella parte Più importante Della stagione Perché ti sto parlando Della parte Di aprile Quindi la parte In cui poi siamo Anche usciti Dalla Dalla Champions Con il Milan Non è una responsabilità Sua Intendiamoci Non voglio dire questo Però certamente È venuto a mancare In un momento Nevralgico Della stagione Non per infortuni Non perché Si è stato male Ma semplicemente Perché è proprio Sparito E non è Neanche la prima volta Che Zininski Fa una cosa del genere Cioè che sparisce Quando serve Per davvero Ci sono stati Altri momenti In cui è stato decisivo Io peraltro ricordo Che l'anno scorso Mi Diciamo che Mi esaltavo tanto Ecco Mi esaltavo tanto Per il fatto Che finalmente Zininski Aveva conquistato Una posizione Di leadership All'interno Della squadra Perché anche Quando mancavano Tanti uomini Importanti Era lui Che in alcune partite Guidava Era quello Che si assumeva Le responsabilità Ed è vero È vero L'ha fatto Però l'ha fatto Un numero Così tanto contenuto Di volte E poi soprattutto È stato sempre superato Anche nella responsabilizzazione Da tanti giocatori Persino più giovani Di lui Che Alla fine Questo ruolo Non è mai riuscito Ad assumerlo Per davvero Ed è stato un peccato Perché comunque Se è vero Da una parte Che Zininski È rimasto qui Sette anni Anche e soprattutto Perché il suo vero potenziale Non si è realizzato È pur vero Che comunque Io Un pochino in più Avrei voluto vedere Ora Ripeto Se rimane Secondo me Bene per la squadra Perché comunque Lui il suo apporto Te lo dà sempre Cioè quel giocatore Che Lo sai Che probabilmente Non andrà mai Oltre Un certo tipo Di rendimento Una certa garra Tutto quello che volete Però comunque Quel qualcosa Te lo dà Cioè quelle garanzie Te le dà Cioè non credo Che farà Ma una stagione Ecco da Un gol E due assist Facciamo così Cioè è quel giocatore Che ti garantisce Sempre un certo tipo Di apporto Però è vero Che il Napoli Può ambire a qualcosa Di più Con il cuore in mano Può ambire a qualcosa In più Zinischi purtroppo Come dici ben Tu ha avuto Una manchevolezza Proprio mentale Nella sua carriera Che alcune volte È stata giustificata Con È la posizione Che è una cosa Che per esempio Ha fatto anche Spalletti L'anno scorso E a causa Del fatto Che gli ho dato Dieci metri In meno Di quello Che meriterebbe In campo Ma non è vero Anche perché Poi questa cosa L'ha cominciato a dire L'anno scorso Dopo che Zinischi Si era riaffermato Come un giocatore Importante Per la squadra Perché la Stagione precedente Quella di due anni fa Era finita Con Con Spalletti Che gli diceva Sì da lui Mi sarei aspettato Qualcosina in più Non mi ha dato Tutto quello Che mi ha dato Quindi non è un problema Di posizione È un problema Proprio che il giocatore Non si è mai espresso Ai livelli Che noi speravamo Di vedere Che poi è la stessa cosa Di Samarzy C'è Lui per esempio È stato accostato A giocatori come De Bruyne Ma non ci è mai arrivato Non è arrivato Neanche a quello Di Amsic Per intenderci Come la vedo io Però Diciamo che È perfettamente L'erede di Amsic Solo che Amsic È arrivato A qualche gradino Più in alto Però lo stesso Maarek Aveva questa Particolarità Che comunque Soprattutto nel finale Della sua carriera Dai Trent'anni in poi Ha avuto Più Stop Cioè Meno continuità E Zienischi In questo È stato il suo Degno erede Cioè Zienischi Alla fine Ha continuato Quello che Stava facendo Amsic E dal mio punto di vista Comunque Quello che ha mostrato Lo fa entrare Sicuramente Tra i migliori Cinque centronambisti Della storia Cioè Dell'era De Laurentiis Centronambisti Così forti Non ne abbiamo avuti Molti Da quando Siamo tornati In Serie A Con De Laurentiis Quindi Sicuramente Il ricordo Di lui Sarà Di un giocatore Fortissimo E poi Un pezzo di storia Un pezzo di storia Qualcuno ricorderà L'esultanza Di Tardelli Al gol Di Mondiale Oppure L'esultanza Di Grosso Con il gol Alla Germania E io mi ricorderò Per esempio Delle esultanza Di Zienischi Al gol Di Raspadori Allo Juventus Stadium Penso che sia Una di quelle immagini Che non Cioè Rimangono scolpite Nella memoria Di un tifoso Anzi Nella memoria collettiva Probabilmente Perché è probabile Che quelle immagini Torneranno In futuro Ma sì Cioè Dal lato del tifoso Per me Non Per Dimostrare E rimanere Nel 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 cuore Di un appassionato Del Napoli Non mi serve Che tu sia messi Cioè Per forza Devi almeno Dimostrare Attaccamento E Zienischi L'ha dimostrato E come Ma non lo so Come andrà a finire Questa storia Se lui voleva rimanere O non voleva rimanere Comunque Sette anni Dal mio punto di vista Siccome il calcio È cambiato E non avremo più Le bandiere Che durano Dall'inizio Alla fine Della propria carriera Io inizierei A Altrimenti Veramente Non esiste più Il termine Bandiera Io inizierei A A Considerare Bandiere Di un club Anche giocatori Che Sono stati Dai 6-7 anni In poi Cioè Comunque 6-7 anni Per quanto mi riguarda È vero che Mo le carriere Si sono allungate Tanto Però 6-7 anni In una carriera Sono praticamente Un terzo Anzi A volte Anche la metà Di una carriera Di un giocatore Se tu ti leghi Per metà Della tua carriera Una squadra Sei quasi Una bandiera Cioè Siccome Ormai Non si avranno Più I giocatori Che restano Sempre con la stessa squadra Per ovvi motivi Perché Non sono stupidi I giocatori Soprattutto A fine carriera Devono andarsi A prendere Gli ultimi soldi Da qualche parte Inizierei A Pensare A cambiare Il modo Di pensare Alle bandiere Per me Zinischi È stata Una bandiera Del Napa Ma del resto Comunque rimarrà Per sempre A priori Per il fatto Che ci ha vinto Uno scudetto E quelle tre Sono le squadre Del Napoli Che hanno vinto Uno scudetto E quindi Lui l'ha vinto Pure da titolare Quindi Per forza È inevitabile Che rimarrà In quella porzione Di storia Poi quello rimarrà Pure Mario e Ru E' un altro discorso Non c'entriamo Piace Il Napoli Perde un giocatore Forte Sulla carta Fortissimo Ma In campo Perché Molti stanno evidenziando Le Le abilità Di Zinischi Sulla carta Poi Quello che Vediamo in campo È un'altra cosa Il campo Dice Che comunque Zinischi Giocatore forte Ma non un fuoriclasse Quindi Non è come perdere Osyman Per farvi un esempio Se perdessimo Osyman Sarebbe molto più grave E questo Secondo me Da evidenziare Perché In molti Stanno un po' Forse Esagerando Giustamente Anche per Dare Maggiore Considerazione A un giocatore Mezzinischi Che ha dato tutto Per la maglia Però A livello Di Di Campo Non stai Perdendo De Bruin Come molti Vogliono Farti No Non è quello Il livello Non esiste Proga Non è quello Il livello Ragazzi Non è quello Quindi E' sostituibile Fortunatamente Per i tifosi Del Napoli Ma Non so Con chi Però Vedremo Vedremo Il 12 agosto E' molto vicino La deadline Che ha detto Il presidente Vediamo Quali saranno Le ambizioni Della squadra Va bene ragazzi Questo video Finisce qui Fate sapere Cosa ne pensate Con un commento Lasciate un like Iscrivetevi E seguiteci su Instagram E' importante Ciao E forza Napoli